Il tema Smart Metering è fondamentale nel campo della standardizzazione perché lo Smart Metering implica una serie di segmenti coinvolti, una serie di attività innumerevoli e attraverso la standardizzazione è possibile il trasferimento tecnologico delle soluzioni innovative. Quindi il tema degli standard, cioè delle regole tecniche che poi vengono assunte come riferimento per la regola dell'arte è forse più importante nel campo degli Smart Metering piuttosto che in altri settori. Proprio perché lo Smart Metering coinvolge la cyber security, coinvolge le soluzioni tecnologiche per le apparecchiature, i sistemi, le modalità di comportamento, le procedure e questo è consentito solo se è supportato da standard tecnici adeguati. Gli standard tecnici superano spesso anche la legislazione nazionale e quindi consentono a livello globale agli operatori di operare e di essere sul mercato senza dover spesso tener conto di aspetti legislativi locali che rappresentano anche barriere del mercato. Quindi la partecipazione ai tavoli del CEI, del Comitato elettrotecnico italiano o di altri enti di normazione internazionali è fondamentale per poter portare avanti, per poter affermare le soluzioni tecnologiche e soprattutto sviluppare lo Smart Metering nell'ambito di un progetto più ampio che è quello delle Smart Cities, che è quello della Smart Community, che è quello che consentirà ai cittadini attraverso l'impiego delle tecnologie digitali di vivere in un altro modo, di ottimizzare le risorse, di evitare gli sprechi di energia, di evitare gli sprechi di tempo e soprattutto di poter gestire in modo più semplice tutta una serie di problematiche che nel mondo attuale è fondamentale gestire. Quindi lo Smart Metering, al di là di questa denominazione che sembra molto tecnica, esiste tutto un campo, un aspetto sociale rilevante che non possiamo trascurare. E' per questo che i vari comitati nazionali e internazionali sono impegnati su molti fronti, quindi non posso far altro che augurare questa iniziativa il migliore successo e soprattutto fare in modo che tutti gli attori interessati, portatori di interesse, si avvicinino a questo gruppo, allo Smart Metering Group e alla nostra iniziativa per far sì che si acquisiscano maggiori sinergie, maggior potere contrattuale anche rispetto agli altri paesi che concorrono a livello mondiale.